quindi a vedere così velocemente un po di video un po di immagini devo dire che mi solletica davvero molto l'idea io onestamente ho già la bava la bocca lo comprerò al day one e cercherò di portare più video possibili quindi io ci sono e voi ci sarete io ci sto e poi io ci sto 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 ci metto la fa un problema comincio a sentirmi un tantino strano io mi sento benissimo immagino che ce l'ho io oh mio dio perché non mi ha avvertito nessuno oh cacchio le butella che vanno a fuoco no no per piacere non voglio non voglio ci metto la testa ho paura chiamate il 9 il 9 1 1 to il mio cuore lois lois vieni qui ok ok credo sia tutto passato credo non voglio non voglio non voglio non peter peter ho bisogno che mi tieni le ore chi vuole dello stupato io ci sto ok annulliamo la serie di arc aberration meglio sì